Cacciata di casa perché amava un uomo di colore, 70 anni dopo stanno ancora insieme. Le storie d'amore piacciono a tutti, specialmente quelle in cui gli innamorati devono superare molti ostacoli per coronare i loro sogni. Jake e Mary Jacobs erano una di queste coppie. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per conoscere la loro storia. Jake e Mary Jacobs La nostra società cambia continuamente, a volte in meglio e a volte in peggio. Negli ultimi anni abbiamo smesso di prestare troppa attenzione al colore della pelle dei nostri vicini, ma solo pochi decenni fa diversi paesi del mondo erano tristemente famosi per le loro politiche razziali. Le minoranze hanno dovuto lottare strenuamente per il riconoscimento dei loro diritti basilari e ancora oggi non hanno raggiunto la completa parità. Basta pensare ai paesi come il Sudafrica, gli Stati Uniti d'America o il Canada, dove la schiavitù dei neri e il segregazionismo sono durati fino al XX secolo. Oggi, sulla carta, dovremmo essere tutti uguali, anche se a volte i pregiudizi si fanno ancora sentire negli stati più conservatori della società. Nel corso degli anni, questa divisione in classi sociali basate sul colore della pelle ha presentato molti ostacoli alle persone di colore. Jake e Mary facevano parte di questo gruppo, ma si sono rifiutati di accettare i ruoli che la società aveva stabilito per loro, e hanno lottato fianco a fianco per costruirsi una vita insieme. Cominciamo dal principio. Jake era nato a Trinidad, un'isola a largo della costa del Venezuela, che è stata colonizzata prima dagli spagnoli, poi dai francesi e infine dagli inglesi, che ne hanno detenuto il comando dal 1889 al 1962. All'età di vent'anni, Jake si era arruolato nell'esercito americano ed era stato inviato in Gran Bretagna per lottare nella Seconda Guerra Mondiale. Era stato stanziato alla base militare di Bartonwood, presso Lancashire, proprio dove viveva Mary. Il destino volle che, dopo la guerra, entrambi venissero accettati nello stesso college, dove si conobbero. Se il mondo fosse progressista e liberale, come vorremmo, non dovremmo nemmeno menzionare che Jake era un uomo di colore e Mary una donna bianca. Ma, purtroppo, questo dettaglio è profondamente rilevante nella storia che vi stiamo raccontando. Negli anni 40 il Regno Unito ospitava pochissime persone di colore. Ovviamente gli abitanti nelle colonie avevano una pelle molto diversa da quella dei cittadini britannici, ma oltreoceano quella consapevolezza sembrava impallidire dietro a una coltre d'ignoranza. Jake però cominciò l'addestramento presso l'aeronautica inglese, nello stesso college in cui Mary stava prendendo lezioni di dattilografia. Mary proveniva da una famiglia ebrea molto conservatrice, che desiderava che sposasse un uomo incontrato all'interno della comunità. Chiaramente nessuno avrebbe potuto immaginare che Mary si sarebbe innamorata proprio di un uomo di colore. Ma nel momento in cui i suoi occhi incontrarono quelli di Jake, scattò una scintilla impossibile da ignorare. Quel giorno stava passeggiando nel campus universitario con un'amica, quando Jake e alcuni dei suoi amici le invitarono a fare due chiacchiere. Mary e la sua amica si avvicinarono incuriosite dal loro aspetto esotico e rimasero stupite di sentirli parlare un inglese perfetto. Quando Jake citò un brano di Shakespeare, Mary capì che era un uomo speciale. Qualche settimana dopo il loro primo incontro, Jake invitò Mary e la sua amica a un picnic di gruppo. Doveva essere un'immagine sconvolgente per i cittadini britannici dell'epoca, e una donna che passava in bicicletta per il parco osservò inorridita quel gruppo misto, concentrandosi in particolar modo sulle due ragazze bianche. Il caso volle che la donna fosse un'amica della famiglia di Mary, e raccontò al padre della ragazza quello che aveva visto nel parco. L'uomo reagì con sdegno di fronte alla notizia e proibì alla figlia di rivedere Jake e i suoi amici. Era un ordine basato soltanto sui pregiudizi razziali, ovviamente, perché l'uomo non fece nemmeno uno sforzo per conoscere il giovanotto con la testa sulle spalle che sembrava interessato alla figlia. Potremmo dire che il ragionamento dell'uomo era una semplice conseguenza dell'ignoranza dell'epoca, ma non sarebbe corretto. Molte persone a quei tempi avevano già cominciato a sfidare i divieti imposti dalla società sulla mescolanza razziale, e, sebbene fossero una netta minoranza, i loro sforzi non possono essere dimenticati. Mary si schierò dalla parte di questa minoranza nel momento esatto in cui capì di essersi innamorata di Jake, e realizzò che non era affatto diverso, strano o esotico, ma era semplicemente un ragazzo come lei. Quello che le avevano insegnato sulle persone di colore era sbagliato, e non poteva continuare a fingere che non le interessasse, a prescindere dall'opinione del padre. Quando Jake le chiese se pensava che un giorno sarebbero stati in grado di sposarsi, Mary rispose che era possibile, ma improbabile. Nonostante tutto, Mary e Jake continuarono a frequentarsi fino alla fine della guerra, quando il ragazzo venne sollevato dal suo incarico militare e rispedito a Trinidad, con enorme sollievo dei genitori di lei. La distanza, però, non bastò a separare i due innamorati, che rimasero in contatto scambiandosi un mare di lettere che viaggiavano avanti e indietro per l'Atlantico. Al momento Jake non aveva il modo né il permesso per rientrare nel Regno Unito. Nel 1948 qualcosa cambiò. Il Parlamento inglese promulgò il British Nationality Act, che offriva ai cittadini del Commonwealth la possibilità di ottenere la cittadinanza inglese e di stabilirsi in Gran Bretagna. Il Regno Unito aveva bisogno di mano d'opera per ricostruire il paese dopo i bombardamenti devastanti causati dalla Seconda Guerra Mondiale, e offrì lavoro ai cittadini delle sue colonie, inclusa Trinidad. Jake non se lo fece ripetere due volte. All'epoca, la disoccupazione nella sua città natale aveva toccato un record storico e, dopo gli anni trascorsi in Inghilterra, non si sentiva più a casa Trinidad. Il suo cuore era rimasto dall'altra parte dell'oceano e, di preciso, tra le mani di Mary. Jake si presentò alla sua porta il giorno stesso in cui sbarcò in Gran Bretagna, e i due innamorati ricominciarono a frequentarsi come se non fosse passato nemmeno un giorno. Jake aveva capito che voleva passare il resto dei suoi giorni con Mary, e un giorno, di punto in bianco, le chiese essere o non essere. Mi vuoi sposare? Citando ancora una volta il poeta che l'aveva conquistata la prima volta. Lei rispose di sì, e i due innamorati si sposarono quello stesso anno, nonostante le obiezioni sollevate dalla famiglia di Mary. Suo padre, in particolare, non aveva cambiato idea riguardo all'adeguatezza di Jake come marito per sua figlia, e le disse che, se avesse accettato la sua proposta di matrimonio, sarebbe stata bandita per sempre dalla casa di famiglia. Mary si trovò davanti alla scelta più difficile della sua vita. Aveva soltanto 19 anni, ma l'amore per Jake era più forte di qualsiasi altro sentimento che avesse mai provato. Così, decise di accettare la sua proposta, e venne diseredata dalla sua famiglia. Non erano solo i suoi parenti a giudicare negativamente quell'unione. Le coppie miste attiravano sguardi sdegnati in tutto il paese, e non venivano ancora accettate nella società dell'epoca. I due sposini incontrarono molte difficoltà durante i loro primi anni insieme. Vivere a Birmingham era un inferno, piangevo tutti i giorni e mangevo a malapena, raccontò Mary. Nessuno voleva affittare un appartamento a un uomo di colore o fare amicizia con una coppia mista. La coppia ricevette molte risposte negative, prima di riuscire finalmente a trovare una persona disposta ad affittare una casa a una coppia mista. Ma col passare degli anni, le cose migliorarono. Mary trovò lavoro come insegnante, e Jake venne assunto prima presso un'azienda locale, e poi all'ufficio postale. Col tempo riuscirono persino a trovare degli amici, ma non sempre venivano accolti a braccia aperte. Ogni volta che Mary conosceva una persona nuova, doveva specificare che suo marito era nero, e molti si tiravano indietro, interrompendo l'amicizia. Jake sperimentò il lato più oscuro del razzismo. Una volta, mentre viaggiava su un autobus, un uomo strofinò le mani sul suo collo con violenza, e gli spiegò che voleva assicurarsi che il colore non sbiadisse al contatto. Riuscite a immaginare il livello di ignoranza e riverenza che doveva sopportare ogni giorno? Jake e Mary provarono a mettere su famiglia, ma il destino non era d'accordo. La loro prima gravidanza si concluse con un bambino nato morto, e provocò in entrambi un dolore talmente insopportabile che decisero di non provarci più. La famiglia di Jake era dall'altra parte dell'oceano, quella di Mary non accettava la loro unione, e gli amici scarseggiavano. Ma il loro amore non era stato indebolito dalle difficoltà. Il padre di Mary venne a mancare quando la ragazza aveva solo 30 anni, e sebbene avesse ricominciato a rivolgerle la parola di tanto in tanto, non aveva mai accettato la presenza di Jake nella vita della figlia. Mary era devastata. Quando la società non ci accetta, possiamo sempre contare sulla famiglia, ma quando ci viene tolto anche il supporto dei nostri cari, mantenere la testa alta è molto complicato. Mary è ancora triste che la sua famiglia le abbia voltato le spalle, ma non ha mai rimpianto la sua decisione. Proprio così, dopo più di 70 anni di matrimonio, Mary e Jake stanno ancora insieme, e sono felici di aver fatto quel salto nel vuoto. Oggi vivono a Solihull, nelle West Midlands, e hanno più di 80 anni a testa. La società che li circonda è cambiata molto dal giorno in cui si sono sposati, e le coppie miste sono accettate molto più facilmente che all'epoca. Quando Jake incontra delle persone di colore, oggi ci tiene sempre a raccontare la sua storia, per ricordare alle nuove generazioni ciò che hanno dovuto passare i primi immigrati neri. Tuttavia, lo scorrere del tempo ha portato con sé delle nuove sfide. Mary soffre di una lieve forma di Alzheimer che è destinata a peggiorare negli anni, e Jake dovrà presto imparare a vivere senza di lei. Fino a quel momento, però, faranno il possibile per rimanere la coppia affiatata e felice che sono sempre stati, nonostante gli ostacoli e pregiudizi dell'epoca in cui sono nati. Conoscete anche voi una coppia mista che ha subito degli episodi di razzismo? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti. Grazie a tutti!